Il nostro teatro, il teatro della fondazione, il teatro dell'educatorio, qui tantissimi eventi che noi promuoviamo, che accompagniamo, sempre con un taglio e con un aspetto importante per noi, che è un'attenzione all'erogazione della cultura. Noi pensiamo che la cultura debba far parte a pieno titolo dell'inclusione sociale, perché la cultura porta pensiero, porta emozioni, porta gioia. Qui si avvicinano da noi il coro gospel, compagnie di teatro, conservatorio, che fa eventi da noi, abbiamo giovani artisti, abbiamo di tutto. Abbiamo la nostra scuola poppi che fa i suoi eventi ogni anno e il nostro teatro quindi è un momento veramente di inclusione e di raccolta. Non è un normale teatro diciamo commerciale. Io sono molto orgoglioso, noi della fondazione siamo veramente orgogliosi di avere questo spazio, che amiamo anche molto. Venite a trovarci, andate sul sito della fondazione e troverete tutti i nostri eventi, perché vedrete che il nostro teatro vi piacerà molto. Questa è la nostra parola d'ordine, inclusione. Questo è ciò su cui noi lavoriamo. Siamo in questo momento nello spazio che dedica la fondazione al territorio e alla città per realizzare il dopo scuola. dopo scuola, estate ragazzi, noi intercettiamo i bisogni di tante famiglie che si rivolgono a noi, vanno sul nostro sito, ci chiamano, ci telefonano e ci mandano i loro ragazzi. Li aiutiamo sì, li aiutiamo nello studio, nel dopo scuola, ma i nostri educatori hanno una particolare attenzione, perché tanti ragazzi oggi hanno bisogno, hanno bisogno di attenzioni che non sono soltanto quelle che possono dare dei genitori, ma sono quelle nei momenti difficili che altri operatori possono dare. Quindi posso dire con orgoglio che, e potrei farvi degli esempi che in questo momento forse non c'è tempo di farvi, che è la dispersione, noi lottiamo contro la dispersione scolastica e tanti dei nostri ragazzi, grazie ai nostri interventi sono riusciti a recuperarsi e a ritrovarsi. Non soltanto qui, ma anche nelle scuole di territorio, facciamo degli interventi, li facciamo con i nostri psicologi, con i nostri educatori, gli interventi sono mirati ad accompagnare i docenti, i professori nelle classi delle scuole medie e dei licei, nell'affrontare i temi del cyberbullismo, nell'affrontare i temi del corretto utilizzo dei social e di internet, li aiutiamo, li aiutiamo, li aiutiamo qui, quando vengono qui i nostri ragazzi nel doposcuola, li aiutiamo nelle scuole del territorio. Per noi è fondamentale ed è uno degli asset principali della fondazione, quando parliamo di inclusione sociale, perché pensate che i nostri ragazzi sono molto, ma molto più fragili di quello che sembra. E quindi noi cerchiamo con i nostri operatori, che sono giovani e bravissimi, di intercettare, di andare al cuore dei nostri figli e dei nostri ragazzi. Qui siamo negli spazi occupati in questo momento dall'associazione ATE, Associazione Traumatizzati Encefalici. Loro sono operatori del volontariato, rientrano in un progetto che la fondazione ha messo in campo da circa due anni, cioè quello di accogliere nei suoi spazi, anche gratuitamente, mondi del volontariato per consentir loro di realizzare le loro attività. Questo era per la fondazione un laboratorio tecnologico, ATE lo utilizza, come vedete dai computer che sono qui in sala, per quelle finalità. ATE è una bella realtà, aiutano tutti i soggetti fragili che purtroppo sono stati colpiti da traumi encefalici, vuoi a causa di traumi proprio veri e propri, di incidenti stradali, vuoi anche per ragioni invece purtroppo di natura medica, sono una bella realtà, loro sono nel nostro progetto. Insieme a ATE abbiamo la consulta delle persone in difficoltà, l'associazione dei diritti negati ed altri mondi del volontariato che collaborano con noi. Noi pensiamo che molti dei nostri spazi, quando riusciamo a dedicarli al mondo delle associazioni, siano assolutamente preziosi per loro e così supportiamo le loro attività di inclusione sociale. È una grande catena. Noi lavoriamo sull'inclusione sociale in via diretta, ma consentiamo anche al mondo del volontariato di lavorarci in modo adeguato e coerente. Questi sono i locali che la fondazione ha dedicato al progetto HPL. Come vedete qui ci troviamo in un grande salone che è il salone principale utilizzato per questo progetto che si chiama AIG Performance Learning. È un progetto fortemente voluto dalla regione Piemonte, realizzato in concreto grazie alle attività poste in essere dalla CPD, dalla consulta persone in difficoltà, che è un nostro partner, dall'Associazione Diritti Negati e in collaborazione con, anzi in direzione, di Roberto Keller, che è uno dei più grandi esperti psichiatri sul territorio che si occupa di autismo. Il progetto HPL è rivolto al disturbo dello spettro autistico, a questi ragazzi e ragazze in difficoltà e dalle loro famiglie. La peculiarità di questo progetto è proprio quello di accompagnare le famiglie per una miglior gestione dei ragazzi. Come vedete questa sala ha dei colori molto tenui perché mi hanno insegnato e mi hanno spiegato che per curare il disturbo dello spettro autistico questi ragazzi così fragili hanno necessità di avere dei locali molto sobri anche nei colori, non ci devono essere rumori, quindi c'è una forte attenzione anche a questi aspetti diciamo così molto tecnici. Ma al di là di questo volevo dirvi che la Fondazione è orgogliosa di partecipare a questo progetto e pensiamo che questo sia veramente un modo autentico di operare nell'inclusione sociale. È vero ci occupiamo anche di arte e cultura, è vero ci occupiamo di volontariato culturale, ma la disabilità è anche un passaggio per noi fondamentale per operare nell'inclusione sociale. Qui siamo nella grande galleria, è uno spazio multifunzionale che utilizziamo per varie attività della Fondazione, principalmente lo dedichiamo a mostre d'arte e a eventi e a disposizione del territorio, viene utilizzato anche dalle nostre associazioni di volontariato per realizzare le varie attività. Ne siamo molto orgogliosi perché devo dire che piace ed è molto accogliente. Insomma è inclusivo anche questo spazio, anche se qui non si svolgono prettamente le attività sociali e esistenziali che la Fondazione svolge negli altri spazi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!